ciao a tutti oggi prepareremo il farro al pesto con fagiolini pomodorini e feta il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono farro perlato fagiolini freschi pesto di basilico acqua calda sale pomodorini feta e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua calda il sale posizionare il cestello con il farro chiudere con il coperchio posizionare il varoma con i fagiolini chiudere con il coperchio e cuocere per 40 minuti temperatura varoma velocità 2 i fagiolini sono cotti trasferire in una ciotola capiente il farro è cotto trasferire nella ciotola con con i fagiolini aggiungere il pesto i pomodorini ed il pepe ed amalgamare bene aggiungere la feta lasciare intiepidire impiattare e servire farro al pesto con fagiolini pomodorini e feta grazie e alla prossima ricetta la fine la fine la fine la fine atura